Eravamo venuti per aiutare, educare, insegnare. Ci chiamavano maestri, eravamo temuti e rispettati. Offrimmo lume e conoscenza, portammo la ricchezza, ma loro volevano il potere. Eravamo venuti, donammo loro gli oggetti del potere, ma avevano un cuore malvagio e armi potenti. Costruirono un impero di potere e di paura, ma non poteva durare a lungo, crollò quell'anno stesse. Milioni di uomini massacrati, una terra di morte. Gli oggetti del potere sono spariti, ma le cicatrici rimangono. Gli oggetti del potere sono spariti, ma la terra di morte. Gli oggetti del potere sono spariti, ma le cicatrici rimangono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Svelto. Non devono prenderti. No. Non puoi farmi questo. Hilda! Dimmi chi è stato. Tu devi essere lo strega. Lord Zauber mi ha ordinato di ucciderti assieme a tutti gli strega. E gli abitanti del villaggio? Perché hai ucciso anche loro? Perché ti hanno protetto. È un delitto punibile con la morte. Che è Spidey! Zia Hilda, amici, ascoltatemi. Vendicherò la vostra morte. Zauber pagherà per quello che ha fatto, lo giuro. Zauber! Sottovaluti il tuo nemico, giovane amico. Zauber ha un esercito potente. Non hai la minima possibilità di vincerlo da solo. E voi chi siete? Amici, spero. Siamo degli strega come te. Stiamo cercando amici desiderosi di farmare Zauber e distruggere le reliquie. Le reliquie? Sì, le reliquie. Sono armi magiche. Zauber possiede la reliquia suprema, l'origine di tutti i poteri delle reliquie. Le reliquie possono far sprofondare il mondo nel caos completo. Ecco perché noi, gli strega, dobbiamo distruggerle. È questa la nostra missione. Poiché solo gli strega possono fermarlo, Zauber ci dà la caccia. Vuole eliminarci, noi e tutti quelli che gli sbarreranno la strada. Ti unirai a noi, vero? Niente da fare. Che cosa? Ma perché? Non mi interessa una missione di cui non so niente. Zauber ha ucciso i miei amici e la mia famiglia. E non ho bisogno di qualcuno che mi dica cosa devo fare. Farò a modo mio. Non dovremmo cercare di fermarlo. È inutile, ragazza. Adesso è troppo sconvolto. Non sente ragioni. Ma abbiamo bisogno di lui. Imparerà ben presto che abbiamo ragione. Vieni, seguiamolo. Va bene, andiamo. Fatemi dare un'occhiata ai rapporti. Non resta che una manciata di strega. Bene. Non ce ne deve sfuggire neanche uno. Il nostro prossimo bersaglio è la Resistenza. Palma! Signore? Voglio sapere dove si nascondono quelli della Resistenza e quanti. sono. Agli ordini. Prepara le truppe. Sii pronto a muoverti quando te lo ordino. Sì, signore. Abbiamo perso fin troppo tempo ad assumere il potere qui. Ricordate, questo è solo l'inizio. Abbiamo missioni più importanti. Signore. Ti ho battuto. Arrediti. Non mi lasci nessuna scelta. Koger, occupati degli altri. Lascia a me questo villano. Sicuro. Anche. 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 Sassurato. Anche. Perfondate. Questa. La vittoria è mia! Cougar, li abbiamo fatti fuori tutti? Sì. Bene. Raggiungiamo gli altri. Ti fermeremo, Zauber. Avanti il prossimo. Tu! Tu! Sparicci! Ehi, non volete proprio rendervi, eh? Morirete oggi, maledetti strega! Fatti da parte! A questo ci penso io. Tu! Spostati! A questo ci penso io. A questo ci penso io. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sei ferito? Sopravviverò. Adesso capisci perché ti avevo avvertito prima. Non c'erano altri soldati? Stanno riposando. Volevi dire che ce n'erano altri? Zauber possiede tutte le reliquie. Per sconfiggerlo devi essere pronto ad affrontare molti, molti altri giorni come questo. E non è tutto. La reliquia suprema di Zauber è più potente di tutte le altre. Anche se riuscissi a scovarlo, non dureresti a lungo. Non fare quella faccia. Puoi anche non avere nessuna possibilità da solo, ma non sarai l'unico ad affrontarlo. Vuoi riconsiderare la nostra offerta? Ah, va bene. Se quello che dite è vero, immagino di non avere molta scelta. Bene. Hai visto, Rosen? Te l'avevo detto che avrebbe cambiato idea. Non dimenticate che sono molti più di noi. E abbiamo bisogno del massimo aiuto. Ecco perché voglio che voi due contattiate la Resistenza. La Resistenza? Sì. Zauber ha anientato il gruppo dei combattenti. Ma qualcuno potrebbe averla scampata e potrebbe avere le reliquie di cui Zauber non sa ancora niente. Dovete convincerli ad allearsi con noi. Pensi che si fidino di noi, strega? È difficile da dire. Grazie alle bugie di Zauber ci odiano e ci temono. Tuttavia il nostro odio comune per Zauber potrebbe bastare a persuaderli. Anche loro sono nei guai. Forse accetteranno la nostra offerta. Almeno si renderanno conto dell'importanza del nostro appoggio per la loro causa. D'accordo. Va bene allora. Vedremo cosa riusciremo a fare. Bene. Conto su di voi. E tu cosa farai? Continuerò a cercare altri strega. Ce ne potrebbero essere altri là fuori. Fa attenzione Rosen. Come sempre. Grazie. 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 Grazie.